E bella a tutti ragazzi di questo nuovissimo video qui dal vostro XBreeze Ragazzi io ho visto che il video che ho fatto 3 mesi fa Quello su Filmora come averlo gratis di qua e di là All'inizio ha fatto tipo 20 visualizzazioni in quel mese ok Adesso sta già a 400 visual Cioè sta salendo esponenzialmente E quindi mi sono detto ma perchè allora non fare un video Come davvero, cioè spiego molto semplicemente Come utilizzare Filmora per editare video Mettere gli effetti e tutto quello che c'è da sapere su questa applicazione Quindi andiamo ovviamente sull'applicazione Questo video ragazzi l'ho fatto 3 volte La prima volta era perfetto ma non c'era l'audio La seconda volta era fatto male ma poi si è spenta la fotocamera E la terza volta è questa Quindi speriamo bene Allora questo è quello che abbiamo appena apriamo Filmora Ricordate sempre, intanto vi lascio il link in descrizione del video come averlo gratis E come attivarlo e farlo funzionare ogni volta che noi vogliamo accenderlo Quindi staccate internet, lo aprite, rimettete internet easy Questa è la schermata Abbiamo la cosa fondamentale è media, audio, titoli, transizioni, effetti, elementi Schermo condiviso non lo utilizzeremo però se lo potete utilizzare utilizzatelo voi Allora cosa fondamentale prima quando entriamo su Filmora Qual è? Immettere i file da editare Ok quindi clicchiamo tasto sinistro sul desktop Solo per farvi vedere un qualcosa a voi Quindi non so apriamo questo Ok e ne apriamo due Perfetto io ho due video da editare Perfetto ok Allora qui sotto ci sono le tracce dove inserire video, audio, eccetera, eccetera Ora abbiamo già preimpostate due tracce video e un audio Come fare ad ampliare queste tracce? Facilissimo Andiamo qui Parte sinistra Parte sinistra Clicchiamo traccia video e ce ne allunga un'altra Traccia video un'altra Traccia audio ce ne metto un'altra Visto quanto si sta allargando ok Io dico sempre questa cosa Se dovete mettere, se dovete sovrapporre dei video Mettete così Webcam come prima Qui vi da la risoluzione e i fotogrammi ok Se voi avete una connessione della madonna Potete anche mettere 2560x1040 Mi sembra che è 2k questo A 30 fps Io ho una connessione normale E avere un video di 6 minuti che mi pesa 4 giga Non è che è proprio al massimo Quindi usiamo 1920x1080 Sono tutti i video che faccio Quindi non fa neanche così schifo Come io abbiamo la stessa maglietta Cazzo ma sono io E mettiamo il video sottofondo Sotto ok Come fare a far vedere quell'altro video sotto Noi clicchiamo noi qua sulla traccia Lo possiamo allargare Tac E Sincronizziamo la webcam Easy Ok Perfetto Qui si sente adesso l'audio Ok Si sente anche l'audio qui Come fare poi Se dobbiamo editare Proprio il dettaglio di quel video Come allargare l'immagine Tutto Il millesimo di secondo Mazzè bella foto Il millesimo di secondo Facilissimo A parte che qui sulla destra C'è questo più Che ci permette di allargare Al massimo Ma Ragazzi Non è che ogni volta Andate su col più Voi andate su questa barra Per esempio E Strusciate verso destra E la barra si aprirà Visto Easy Perfetto Andate su questa immagine Per tagliare facile Cliccate qua Questo tasto Delle forbici Una volta Tasto sinistro Puff E Addirittura Ci ha tagliato già anche quella sotto Perché Se dovete sincronizzare Un gameplay Con una webcam Con la voce della webcam Bisogna tagliare Dopo aver sincronizzato tutto all'inizio Quali? Come fate a sincronizzare Due audio diversi Quale microfono E audio del telefono Fate Uno Due Tre Questo schioppo Poi andando In A editare il video C'è In tutti i due i microfoni C'è questo piccolo scoppio Tagliate Tagliate E per magia Il vostro labiale La voce Si sincronizzerà Eh? Fighissimo Comunque Per qua Lo ricliccate Fate elimina E elimina E questo abbiamo tagliato Poi Un'altra cosa fondamentale Se andiamo qua sulla traccia Possiamo comunque regolare Il tono di voce Ok? L'audio Possiamo addirittura scollegarlo E ce lo mette qua sotto Eh? Però non ci interessa Quindi lo rimettiamo sopra Freccette Destra e sinistra Per tornare indietro Per qualunque problema Voi avete E tornare avanti Easy E poi Vi faccio vedere un po' Eh? L'audio Ok? Rego l'audio Facile ragazzi Qua noi abbiamo Un massimo di 12 decibel Con il quale alzare il mio volume Io con questo microfono Ho sempre 12 decibel ragazzi Quindi se voi sentite un po' Di rumore di sottofondo È perché non posso tenerlo A 0,0,0 Come tutto Tutti gli altri microfoni Devo alzarla a 12 Perché o me lo metto qua vicino Adesso compro un'asta E così non si sente La rumore di sottofondo Oppure devo un po' Alzare la voce E alzare poi il microfono In postproduzione Basta Poi abbiamo Dissolvenza Dissolvenza in entrata Quindi che la canzone Magari parte piano Per poi andare su Eh? Se parliamo di canzoni Se parliamo di parole Non lo so Eh? Dissolvenza in uscita Parte alta E poi va a scendere piano piano Per poi Eh? Riallacciarsi A riallacciarci Ad una parlata Ok? Intonazione Se la mettiamo troppo alta Sa Se la mettiamo troppo bassa Mimimi Bagatini Così capito? Quindi a posto Equalizzatore Ragazzi Qua non lo so Io uso molto spesso Il classico E il rock roll Perché non mi fa sentire tanto Il rumore del pc di sottofondo E quando Perché Ovviamente Se io il microfono Lo tengo Da solo A 0.00 Si sente solo la mia voce Però si sente bassa Quindi magari Devo un po' Alzare E si alza anche Il livello della stanza Ok? Un po' una merda Infatti Ci penserò E poi qua resta Il rumore di sottofondo Io lo attivo sempre Ma lasciatelo a deboli Se voi lo mettete a medio A forte La voce cambia Il rumore di sottofondo Non c'è più Ma la voce Cambia un casino Quindi Non lo fate Ok E qua abbiamo detto tutto A parte Qua le musica Ragazzi Voi andate Che ne so Io dove ce l'ho le musica Vediamo un po' Ce l'ho su media le musiche Musica Ne so Ne mettiamo una E la mettiamo qua Poi qua la possiamo abbassare Per solo sottofondo La possiamo alzare Se è proprio Solo la musica Che vuole Esprimere la sua Generalità A parte quello Allora Andiamo su Audio La prossima categoria Qui sono tutti gli audio Suoni esistenti Immaginabili Qui abbiamo il colpo di laser Abbiamo il beep Voi basta cliccarli E ve li mette qua Poi da questo punto Voi potete anche cambiare Le potete andare da su A destra A sinistra Allora Intanto È così piccolo Dovrebbe essere Ok Questo è un beep Dura Un tot di secondi Vorrete farlo durare di più Clicchiamoci sopra Velocità E durata E qua possiamo Comunque mettere 42 secondi Mettiamo 42 secondi Metterlo qui Non lo so Qua sotto ho fatto Un'azione stupida Prendete esplosione Di un vetro Lo mettete così Sapete che comunque Qua parte l'esplosione Qua comunque va a discendere Se volete solo un pezzettino Basta tagliare Prendete solo questa particina Questa parte Che è un po' più rialzata E che è il boom Vero e proprio Ci sono anche altri Comunque suoni Che potete scaricare Ovviamente gratuitamente Perché ragazzi Appena avete fatto Questa Come lo dico io Gratuitamente Potete anche Scaricare tutte le altre cose The mind sweepers O vabbè Eccetera 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 Titoli ragazzi Facilissimo no Allora qua Si può creare tantissime cose Si possono creare Dei titoli veri e propri Dei banner Quei titoletti Che appaiono sopra Comunque ai video Delle semplici parole Lo so Per esempio Noi andiamo qua su Il primo Che è quello più facile Ho aperto i due Lo devo aprire solo uno Cicchiamo due volte sopra E qua Se lo so Scriviamo ciao E poi vedete Che non c'è scritto Sul video Vedrete ma Come cazzo è possibile Che non c'è sul video Perché ragazzi Ricordatevi Se una cosa Deve apparire Prima di tutti Bisogna metterla Prima di tutti Quindi questo lo portiamo sopra E lo portiamo qua E la parola Viene Quindi Ricordatevi sempre questa cosa Webcam Gameplay Qualche logo Eccetera Sopra la webcam Deve stare Ok O al massimo Sopra il gameplay Visto che la webcam Tanto ce l'ho L'ho ridimensionata sopra Quindi questo spazio È senza webcam Ok Transizioni Vabbè questa ragazza È la cosa più facile È più divertente No che ne so Voi cliccate qua Eh Tagliate questo pezzo Eh Ci mettete il cubo Il cubo Basta cliccarlo E già dove è tagliato Ve lo Ve lo iniettate No dove sta questa stanghetta Ve lo mette E Quattro settimane E fa così Oh adesso Mettete il cubo Mettete il coso È molto figo Mi dicono Sì 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 Vabbè ci sono tantissimi effetti Ragazzi anche qualcosa tipo figo Così no Questo l'ho mai provato Vediamo un po' Cosa fa Aspettate Proviamo Oh Non si apre più Eccolo qua Proviamo un po' Vediamo abbassare l'audio Che mi fa Mi fa abbastanza schifo Vediamo un po' Diciamo ecco Quindi Volevo fare un tutorial Una cosa Una merda Mazzate che audio brutto Perché ho messo l'intonazione Loll Allora Poi andiamo sugli effetti Gli effetti Vabbè Tipo sono Gli effetti su Instagram No però L'abbiamo sui video anche Quindi non lo so Volete avere un effetto Tell Orange Mettete qua sopra Ci fate passare sopra Il corso Appunto Vedi si sa questo tipo effetto Un po' arancione Un po' Un po' strano E Io non Però non so Dato cazzo nell'audio Non so un mazzo qualcuno No sto scherzando Da qua viene l'audio E Vabbè Potete vedere anche La differenza Così era un po' così E Poi so Posso mettere anche un tessile Lo facciamo partire subito E Vabbè Un po' di fotogrammi Un po' Di effetti fighi Non lo so Elementi ragazzi Questi sono I semplici emoji Che Ognuno abbiamo sul telefono Però qua comunque Ci sono anche Tipo delle frecce Molto utili Per far vedere un qualcosa Un tutorial Freccia su Fersa giù Fersa Qualcosa pesca Made fresh Organic Perché è vegan Sì E Qua poco Schermo condiviso Io non lo uso Quindi non vi so dire niente Non so Schermo condiviso Lo apriamo E Non lo so ragazzi Non lo so Non mi chiedete Schermo condiviso Allora Questo è stato Un semplice tutorial Su come Editare un video E poi potete dire Brizz ma poi come si asporta Asporta Esporta Cliccate qui Tasto blu Esporta Formato MP4 Dispositivi Youtube Qua ve lo mette già su Youtube Ve lo carica In pratica Ve lo carica Questo video su Youtube Dimensione Un giga Cazzo E Faccio sempre locale Mi salvo il video Metto il nome Lo metto nella mia cartella 1920x1080 25fps Frame rate Esportiamo E via E ci mette quei 20 minuti 15 minuti E se non lo so Quanto durerà Poi dipende Quanto roba ci metti E Qua beh C'è anche il tasto Per ingrandire Comunque Se volete vederlo Però ragazzi Se voi tipo avete Un audio diverso E poi un labiale diverso Si sentirà sfasato E potete dire De cazzo Alla sbagliato qualcosa In editing No Va molto a rilento Ragazzi Il full screen Ok Quindi Prendetelo sempre Con le pinze D'argento Non vedete Che non è compatibile L'audio in full screen Però poi Lo Riaccolpate così E l'audio comunque Si sente bene Quindi Lasciate perdere Ste cose Comunque Io spero che questo video Vi sia piaciuto Noi ci vediamo Nel prossimo video Vi ripeto Vi lascio Il link in descrizione Del video Come averlo gratis Lasciate un bel pollicino Se vi piace questo video Ragazzi Ci ho messo impegno Ok Ho fatto 4 video Ieri ho fatto Neanche uno con l'audio Tutto quanto Dove rifà da capo Bella a tutti Grazie a tutti